Seconda parte dell'esercizio. Siamo a questo livello. La pagina Index ci consente di selezionare uno o più attori o attrici ed è pronta di inviare al clic sul bottone invia un array che andremo a catturare in quello predefinito dal loro post l'elenco dei codici degli attori selezionati. Questo schema focalizza meglio la situazione. Abbiamo scelto dall'elenco su Index gli attori cui codice 3, 6 e 2 al clic sul bottone di Submit questo è l'array che verrebbe trasportato alla pagina E-Index. Vi ricordo che ID Attori è il name che abbiamo attribuito a tutti i checkbox sulla pagina Index e quindi è con quel nome che la pagina E-Index dovrà andare a recuperare gli stessi codici. Come l'altra volta andiamo in modo incrementale. C'è subito un controllo da fare e cioè ma è stato selezionato almeno un attore sulla pagina Index? Se la risposta è no significa che neanche si formerà questo array cioè la pagina E-Index non troverebbe nell'array dollaropost un ID Attori. Ecco perché il modo corretto di fare questo controllo è andare a vedere se è stata settata la variabile dollaropost ID Attori. Se non lo è, if not is set quella variabile significa che non è stato selezionato alcun attore e qui per brevità mi sono limitato a proporre un link per tornare alla pagina degli attori. Vediamolo. Non seleziono nulla. Invia. Questo è quello che viene generato dallo script PHP. Altrimenti recuperiamo l'elenco dei codici degli attori. Potremmo anche lavorare sempre direttamente col dollaropost però è più comodo copiarseli qui. Anche se non essenziale ma rappresenterà la metà del codice che poi andremo a scrivere. Abbiamo detto, mi scelgo due per i quali so che c'è una corrispondenza sono tutti e due nella G e cioè questo Gable Christian e Penelope Guinness questi qui. Pretendo che entrambi gli attori siano nel cast dei film ottenendo questo elenco, questi due. Ecco dicevo per ottenere questa conferma cioè guarda che di là mi hai selezionato Guinness, Penelope e Gable Christian. Dovremmo scrivere quello che più o meno sarà la metà delle righe di codice di E-Index e cioè recuperare il nome di ogni attore dietro uno dei codici che abbiamo ricevuto. L'ho voluto fare con un comando di questo tipo. Se i codici degli attori scelti sono 362, select asterisco from attori where Hector ID in 362. E non colpo solo potremmo poi navigare con ciclo while il risultato e uno dopo l'altro otterremmo nome e cognome degli attori coinvolti. Mi copio questo modello ad esempio per incollarmelo qui e tenerlo come guida. Preparo la stringa corrispondente al comando SQL da inviare al server. Questa prima parte è fissa. Select asterisco from Hector. Sì, qui era from Hector. L'ho italianizzato. Where Hector ID in, va bene anche in maiuscolo, apro la parentesi e saremmo qui. Adesso devo fare la scansione dell'array ID attori pescando ogni suo elemento e concatenandolo qua, mettendo una virgola tra i codici estratti. L'ho voluto fare con un for each che è molto comodo in questo caso qua. Significa per ogni elemento dell'array dollari di attori, estratto col nome dollari di attore, concatena quel ID attore e una virgola al comando SQL. Per cui, alla prima iterazione di questo for each, dollari di attore corrisponderà a dollari di attore di zero e verrà aggiunto qua, dopo la parentesi tonda, insieme a questa virgola. Al secondo giro, dollari di attore sarà fatto corrispondere a dollari di attore di uno e anche lui sarà aggiunto e così via per tutti gli altri. Rimarrà però questa virgola in fondo, dopo l'ultimo. La togliamo facilmente. Ecco qui, estraggo da comando SQL tutto meno l'ultimo carattere, cioè togliamo la virgola. Come si fa? Si utilizza la funzione predefinita substr, substring, sotto stringa, che prende una parte della stringa indicata come primo parametro. Che parte ci serve? Quella dall'indice zero, cioè dal suo primo carattere, quanti caratteri? Lunghezza di quella stessa stringa meno uno, cioè tutto meno l'ultimo carattere. Lunghezza del comando, come adesso con la virgola, meno uno. Non rimane che aggiungere la parentesi chiusa finale. Vi ricordo che questo simbolo è un po' come il più uguale, significa, metto qua come se fosse quindi questo. Solo che è evidentemente molto più compatto. Ora produco questo messaggio a seconda del criterio. Sulla pagina index il name del radio button, tutti almeno uno, è proprio criterio. Estraiamo qui in testa per ordine anche il dollaro post criterio, uno tutti. E qui con un semplice if andiamo a discriminare la situazione, se è uguale a uno questo messaggio, altrimenti l'altro. Non rimane che inviare al server il comando SQL e acciclare il suo risultato scrivendo il nome e cognome di tutti gli attori selezionati sulla pagina index. Andiamo prima a capo, inviamo il comando. La matrice del risultato che conterrà tutte le anagrafiche degli attori è questo dollaro result attori. Navighiamolo con un ciclo while, estraendo come mi avete ormai già visto fare parecchie volte, con la mySQL fetch associ, un record dopo l'altro, che ci ritroveremo nell'array dollarattore. L'unica operazione da fare è un bel eco con il cognome dell'attore, last name e il suo nome, ogni volta andando a capo. Alla fine di questo elenco di intestazione, una bella cornicetta. Salvo e andiamo poi a verificare. Debbie, Kim e Jessica. Confermati. Debbie, Kim e Jessica. Adesso la parte interessante. Interessante perché ci sono diverse strade che si possono seguire, ciascuna con i suoi pro e contro. Io ne scelgo uno a livello di codifica, poi magari accenno le altre. Vi ricordo che adesso dobbiamo qua sotto avere un modo di stampare e elencare i film che hanno o almeno uno di quegli attori che abbiamo ricevuto nel cast oppure tutti, che è un po' più difficile. Aiutiamoci di nuovo con uno schema. Ora i codici degli attori ricevuti dalla pagina index sono nell'array dollaro id attori. La logica che ho applicato, semplice, è questa. Faccio passare tutti i film e per ciascuno decido se stamparlo o no. Far passare tutti i film significa avere un primo ciclo che fa select asterisco fra un film, poi il ciclo while col fecciassoc. Dentro questo ciclo ho ovviamente a disposizione l'id di quel film. Per ciascun film comando un'intera query che mi va a recuperare con una join tra la tabella dei film e la tabella intermedia film actor i codici degli attori collegati a quel film. Per il primo film, film 1, nel disegno saranno i codici 2 e 3 dei suoi attori e sono proprio quei codici che vado a leggere col ciclo while che consume il risultato della query più interna, cioè tutti gli attori di quel film che stiamo considerando. E dove andiamo a metterli? Nell'array $fk attori, che avremo naturalmente la cortezza di ricreare all'inizio di ogni nuovo film letto dalla query più esterna. Alla fine del ciclo while più interno avremo nell'array $fk attori quelli scelti sulla pagina index e in questo appena costruito, a cui ho dato il nome $fk attori, tutti i codici degli attori associati al film che stiamo considerando. Adesso sarà sufficiente confrontare il contenuto dei due array per decidere se stampare o no il film. In modo lineare ho pensato di fare questo. Faccio passare ogni codice che ho ricevuto dalla index, cioè nell'array $fk attori e lo vado a cercare nell'altro array. Se lo trovo aggiungo uno contatore. Alla fine conto le occorrenze che combaciano. In questo esempio troverei ovviamente due corrispondenze, cioè il 3 e il 2 ma non il 6, per cui se l'utente mi avesse chiesto guarda almeno uno di questi attori vorrei nel cast concluderei va bene stampo il film, altrimenti no, non lo stamperei perché mancherebbe un attore. 3 il numero degli attori cercati, 2 quali trovati. Ecco il codice in dettaglio, ora dovrebbe essere molto più semplice seguirlo dopo aver inquadrato la logica generale del conteggio. Si diceva con questa query leggo tutti i film per avere di ciascuno il codice. quello lo utilizzo con questa query più interna che per ogni film va a fare la join con la tabella intermedia imponendo ovviamente che il film fk, la chiave esterna del film corrisponda a film id appena letto, in modo da poi poter estrarre tutti gli fk degli attori che aggiungiamo, come si diceva prima all'array $fk attori. Terminata la preparazione di un array andiamo a contare quante corrispondente ci sono. Uso questi due for each annidati, il primo fa passare tutti i codici di attore dell'array ricevuto dalla index php e ciascuno viene messo a confronto con i codici fk attore ottenuti con la query più interna. Se sono uguali incremento il numero di corrispondenze per cui prendo il primo codice d'attore ricevuto dalla index. Lo vado a confrontare con tutti i codici d'attore estratti dalla join più interna. Poi passo al secondo codice d'attore ricevuto dalla index e di nuovo vado a confrontarli con tutti i codici estratti dalla tabella intermedia. Alla fine nella variabile dollaro corrispondenze ho il numero di codici che combaciano. Se il criterio richiesto era me ne basta uno e ho trovato almeno una corrispondenza cioè dollaro corrispondenza maggiore di zero oppure se mi avevi scelto sulla index tutti e le corrispondenze trovate equivalgono al numero degli elementi della re ricevuto da index allora stampi il film con la sua data di edizione altrimenti no. Questa è una soluzione più procedurale cioè non utilizza al cento per cento l'SQL. Si fa alleggerire moltissimo il lavoro e poi elabora. Il mio collega il professore Marioni Marco mi ha però spedito una soluzione più SQL centrica molto elegante. Questa è la index tutto sommato abbastanza assimilabile alla mia dove però si curano anche particolari come non saltiamo neanche una lettera perché potrebbe essere che nell'elenco degli attori non ve ne sia uno non so con la lettera K o la lettera Z. Tutte le lettere in minuscolo sono inserite in questo array vet alfabeto sfruttando la funzione range da A a Z. Un indice questa variabile dollaro ind punterà in questo array alla lettera a cui siamo arrivati e quando legge un attore andrà a fare un controllo se per caso, eccolo qui, abbiamo letto il cognome di un attore la cui iniziale messa in minuscolo così evitiamo i problemi maiuscolo e minuscolo è diversa da quella a cui sta puntando in questo momento questa variabile nell'elenco del lettere e se trova discrepanza colma il gap spostandocene in volta di una posizione nell'array stampa con un titolo H3 quella lettera in maiuscolo mette anche un separatore il solito HR e va avanti finché c'è differenza tra la lettera dell'attore che stava per stampare e quella a cui stava puntando con l'indice. Ok qui non andrei a perdere tempo. Ma una cosa interessante da notare su questa basina che cos'è? L'uso del valore del radio button che in pratica va a differenziare proprio il comando SQL. Quando pretendiamo che tutti gli attori siano presenti nel cast passa un end, almeno uno passa un or e questo end e questo or vengono utilizzati poi qui. Nella pagina che elabora capite? Direttamente nella costruzione del comando SQL che sarà impartito. Notate quanto sia snella, già questo fa capire che la soluzione è più furba. E la capiremo meglio andando a vedere proprio il risultato. Ho scelto ancora i due attori di prima, Christian Gable e sotto la P Penelope come era Penelope Guinness, eccola qua. Seleziono almeno uno e questo è il comando che viene generato dal ciclo che avete visto qui e che costruisce un pezzettino alla volta il comando SQL che ci fornisce il risultato. C'è una parte che è fissa, questo select title from film where. Poi anche qui si ricevono naturalmente i codici degli attori, qui col get per motivi di test è più facile poi fare controlli, poi un attimo mettere post e con quelli il ciclo va ad aggiungere tanti controlli quanti sono gli attori richiesti. Se ne basta uno solo mette l'or, se invece sono pretesi tutti metterà l'end. È come dicevamo prima questa scelta qua. Questa espressione condizionale cerca di capire se siamo alla fine, per cui siamo alla fine dobbiamo aggiungere nulla, altrimenti metterà end, or, end, ma non dopo l'ultimo. Come fa questo comando a capire se deve stampare un certo film? Deve controllare se sia Gable che Guinness sono autore di quel film. Beh, allora, se trova il codice di quel film o in questo elenco, generato da una select secondaria, o in questo altro elenco, vuol dire sì. Perché? Questo è l'elenco dei film, select film FK, presi dalla tabella intermedia tra film e attori, imponendo che l'attore sia quello che ci interessa, where Hector FK è 10, non so se è Gable o Guinness, uno dei due. Vuol dire, ah beh, questo film ha l'attore 10, è solo se lo trovo sulle righe della tabella intermedia in corrispondenza di quel codice di attore. Stessa cosa per l'altro attore. Se mi accontento di uno di questi, allora metteremo l'or. Diversamente ci metteremo l'end e pretenderemo che quel codice di film compaia nell'elenco dei film di tutti gli attori coinvolti. Furbissima come soluzione. E Marco è stato proprio bravo, mi ha anche inviato una proposta ancora diversa, che utilizza l'union o l'intersect. L'union ha in sé ovviamente la logica del lore, l'intersect, l'intersezione, quella dell'end. Immaginiamo che gli attori che ci interessano abbiano come codice 1, 10 e 20. Allora vado a selezionare quei film, il cui codice lo trovo nell'unione di questi tre risultati. Ancora quale di prima. Questo estrae gli ID dei film in cui c'era l'attore con codice 1, lo unisce col codice dei film in cui c'era l'attore 10 e infine lo unisce con i codici dei film in cui rappresenta l'attore con codice 20. Cioè in pratica invece ci vediamo come prima, se era o in un piccolo insieme oppure in un altro, un altro ancora, no, qua fa un solo controllo IN che è la somma degli insiemi di prima. Similmente con l'intersect. Attenzione che per farlo funzionare però mi fa notare che c'è bisogno, si è stato utilizzando XAMP e quindi ormai MariaDB, che la versione di MariaDB deve essere almeno la 10.3 perché è da lì che viene supportato realmente il verbo intersect. Tengo il film e stampo il suo titolo se il suo codice lo trovo nell'intersezione che risulta dall'insieme di questi codici, cioè i film dell'attore 1, questi e questi. Infatti questi che cosa sono? I film in comune tra tutti questi attori. Se il codice del film che sto decidendo se stampare o no lo trovo qui, vuol dire che è da stampare, altrimenti no. Visto che serve tutto quella pappardella sui diagrammi di Venn, gli inseministi che l'intersezione unione, che sembrano dei giochetti un po' a sé a perdere. Col cavolo. Non mi rimane che osservare che è il caso classico dell'allievo che ha superato il maestro, visto che il signor Marinoni, ebbene sì, è stato un mio allievo, tanti anni fa. Ed ora è il mio fido collega. E se non sono soddisfazioni queste, a risentirci. Grazie. Grazie. Grazie.